Questo video riguarda i migliori tre bistecchiere elettriche per carne. Il vincitore della qualità è il Solis Deli Grill 7951. La griglia elettrica è adatto per cucinare i pasti di tutti i giorni, ma può essere utilizzato anche per un'accogliente serata gourmet. Non sono necessari olio, burro o altri prodotti grassi per cucinare con questo bistecchiera elettrica. Ecco perché il cibo che cucinerete non sarà solo gustoso ma anche molto più sano. Facile da usare La luce rossa indica che l'apparecchio si sta riscaldando, la luce verde che la piastra è pronta per l'uso. La piastra della griglia è dotata di un sistema di canalizzazione che scarica i grassi e gli oli rilasciati durante la cottura nello scarico integrato facilmente rimovibile per una pulizia più comoda. Solis Deli Grill 7951 Bistecchiera elettrica Incluso una piastra per la griglia a nervature e una teglia piatta più due spatole su misura più due paraspruzzi rimovibili. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Delonghi CGH 920. Funzioni di cottura prepara toast, panini, hamburger e succose bistecche grazie a questo versatile grill elettrico con resistenti piastre dal rivestimento antiaderenti in teflon di alta qualità. Termoregolatore e timer alta precisione in tutte le operazioni grazie al display del multigrill. Il controllo elettronico della temperatura assicura una distribuzione costante del calore sulle piastre. Funzione sia l'ideale per cucinare bistecche. La carne si cuoce all'esterno ma rimane tenera e succosa all'interno. Ampia gamma di accessori 2 settembre di piastre per la griglia con resistenza incorporata. Potrai preparare ogni tipo di cibo, che sia carne, pesce, toast o verdure. Facile da pulire le piastre e sono rimovibili e possono essere lavate in lavastoviglie. Ideale per carne e pesce, con abbastanza spazio per cucinare pietanze per 6 persone. La varietà è la chiave. Griglia con il piatto inferiore e arrostisci con quello superiore, perfetto per le bruschetta. Il vincitore del premio è il Delonghi BQ60. Prepara in modo pratico e salutare ottimi piatti di carne, pesce o verdure. Il doppio grill girevole brevettato 28 x 27 cm permette di girare il cibo facilmente senza rovinarlo. La pulizia è facile grazie alla pratica vaschetta raccogli gocce removibile e compatta. La vaschetta raccogli gocce removibile può essere riempita d'acqua per cuocere alla griglia senza produrre fumo. Impugnature griglia e scocca in materiale termoisolante, interruttore acceso spento con indicatore di funzionamento e microinterruttore di sicurezza. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.